Buongiorno, non possiamo darci la mano, piacere è finito veramente. Buongiorno ragazzi, saldiamo, saldiamo. Buongiorno. Lo so che è fastidioso tenere la mascherina, so che non vi piace, so che fuori forse non la tenete e fate male, però serve, serve per garantire la vostra salute e quindi quella dei vostri genitori e quindi quella dei vostri nonni. Dovete essere il più possibile responsabili quest'anno, poi passerà tutto questo. Però in questo momento vi si chiede di essere ancora più bravi, ancora più responsabili rispetto a quello che normalmente siete stati negli anni passati. Vedevamo l'ora davvero di essere di nuovo qui con loro. Io sono contento di essere tornato, mi era mancata un po' l'attimo spera, solamente che finire il Covid è un altro mondo. Io mi fido ciecamente degli studenti, so che ce la mettere di tutta. L'importante è rispettare le regole ed essere veramente molto rispettosi del corpo docente e di tutti quelli che ci stanno mettendo cuore e anima. Durante le ferie abbiamo continuato il nostro lavoro, procedo il nostro lavoro per poter garantire all'utenza, al servizio, supportare il dirigente. Ringraziarvi per tutto il lavoro che avete fatto durante il periodo del lockdown, durante il periodo degli esami di Stato e per l'anno che ci aspetta. Non sarà un anno facile, questo lo sappiamo. Quando abbiamo fatto le lezioni online, i ragazzi, con il fatto che stavano a casa e non potevano comunicare tra di loro, perché io ho fatto più programma di quanto generalmente ne faccio in presenza. È il momento di tornare qui, appunto, fra i banchi e impegnarsi, impegnarsi tantissimo. Buon anno scolastico. Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci a lei. Grazie.